ok in genere allora questo è il livello 90 allora in questo livello 90 la difficoltà è che prima di che ci fossero queste pedane la prova era da fare senza queste pedane centrali solo che per renderlo un po' più facile ce le ho messe 91 ok ma non è un po' più facile Ma cosa? Non ho capito com'è il livello E l'ho fatto io, eh, quindi è gravo Ok Ok Tirevi il ghiaccio Ok, 92 Ecco, mi ha preso la veleno C'è una trappola velenosa Questo è il livello più facile che ci sia E basta farci spingere Però puoi anche rischiare di morire Perché se vai troppo avanti Però se stai in mezzo Non succede Stai in mezzo Io ho voluto usare quelle laterali Ma basta stare in mezzo Ok Ecco Siamo a livello 94 Mi sembra 94, ok A me è la fine Il 100 è l'ultimo Però il 100 E' quella più lunga e difficile Ovviamente Ok Checkpoint Quindi sono stato bravo Ok Ho messo i checkpoint del medi Giusto per non Rifare tutto il pezzo Ogni volta Ecco È caduto Io sono la sotto Ok Ecco Mi ha preso lo stesso Io mi sono messo nell'angolo E mi ha preso lo stesso Nel lato Inferiore Ok Fatto 95 Allora Questo qua Bisogna andare Laterale Qua dietro Andare di qua Ok 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 trappola di veleno qui è a rallentatore praticamente devi scrivere le trappole a rallentatore tutto rallentato puoi passare 6 su una parete come il livello precedente e non c'è problema ok ok right ok un'altra trappola di veleno 97 ok ora bisogna correre 98 allora 98 bisogna correre e stare chinato track point prendiamo l'impulso ok ok livello 99 ok questo è un livello tosto Cominciando a diventare difficile No Mi ho preso la trappola dietro Ci sono quelle a quattro trappole? Non lo so Quelle con le trappole al soffitto Sono i più pericolosi Sono più difficili da schivare C'è quattro No mi ha laggato Mi ha laggato No 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 Mi ha laggato tantissimo Devo arrivare là in fondo Per livello 100 Comunque mi ha laggato Si è visto Fornite non abbandonami adesso Mi ha laggiato no non la gara ok lo immaginavo più difficile